eccoci qui ragazzi buongiorno ben ritrovati allora il giorno dopo di roma salernitana facciamo un'analisi più tranquilla e serena della partita vedete certe volte quando uno fa il video post partita subito dopo che la stessa sia finita magari l'adrenalina la delusione la gioia ti fanno fare un'analisi sì comunque giusta però magari poi il giorno dopo ripensandoci analizzando bene guardando la partita ti vengono in mente certe cose c'è una diciamo una disamina più lucida no più obiettiva del tutto quindi oggi il giorno dopo di roma salernitana proviamo insieme a capire quali sono le cose che sono andate bene e quelle che sono andate male a parte un risultato che purtroppo ci ha penalizzato in maniera eccessiva secondo me perché ieri la salernitana ragazzi a parte qui tutti rite che andrea non ha fatto veramente nulla però colpe nostre perché i due gol presi diciamo erano abbastanza evitabili ecco cominciamo dalle cose che secondo me non vanno o che comunque non sono andate bene tenendo presente che è la prima del campionato tante squadre stanno comunque in rodaggio anche ieri la lazio ha perso 2 a 1 a lecce è chiaro che le vittorie di inter juve atalanta e ci hanno dato un po di napoli ci hanno dato un po una botta no perché dicono squadre già pronte noi invece stiamo in ritardo non è quello che comunque napoli ha affrontato il frosinone l'inter ha sfrontato in casa un monza che già dalla coppa italia che è uscita con la reggiana il monza inizia sempre così ragazzi a rilento l'anno scorso le prime cinque partite ha perso e poi ha fatto il campionato che ha fatto la stessa juve è andata a udine con un udinese che si è calato le braghe dopo il primo tempo facendo una partita indegna indegna ogni volta che gioco contra juve si apparecchia una partita proprio come per di prego vincete tranquillamente e per cui ragazzi bisogna mantenere comunque una certa serenità e una certa tranquillità allora la difesa è quella è la cosa che secondo me ieri non è andata bene perché comunque i gol presi specialmente il primo dove c'è un liscio clamoroso all'inizio azione di mancini più uno smalling che ripeto mi sta dando parecchi dubbi perché anche nel precampionato ci ha avuto parecchie defaianze e se anche uno come smalling ci fa delle defaianze siamo veramente nei casini la difesa ieri è stata pessima mancini e smalling da cinque e si è salvato il solo iorente che prende la sufficienza difesa poco attenta poco reattiva due gol evitabilissimi specialmente il primo perché sono due lisci clamorosi smalling non si può fare uccellata che andrebbe con quella con quella finta cioè veramente è troppo troppo come non può farlo cristante sul secondo gol sul secondo gol magari un rui patricio che parte un po' a ritardo perché io da dietro l'ho vista la palla non era angolatissima io del portiere già ne ho parlato ampiamente ragazzi io non capisco perché la ruma non abbia intervenuto anche sul portiere visto che è in scadenza l'anno prossimo spero che non gli venga rinnovato il contratto perché già l'anno scorso c'è avuto parecchie defaianze lui patricio io ieri ho visto un falcone a lecce che ha fatto due tre miracoli clamorosi e non capisco perché la roma non va su questi portieri perché falcone era della sandoria in serie b la ricompate lecce a 4 milioni cioè 28 anni un portiere da paura e io non capisco perché la roma non può andare su sti portieri invece di tenesse uno dei 35 anni cioè per me sono cose assurde che non riesco a capire vabbè questi sono altri discorsi dei mercati quindi difesa totalmente insufficiente portiere che sembra un comodino perché l'utile ducò poi nelle uscite insomma ne esce mai con i piedi è un po' insomma deficitario io raga dico la mia poi magari sono esagerato anche sulle fasce ieri non non siamo andati sia spinazzola che soprattutto cristian troppo timidi troppo sulle loro hanno spinto poco e non mi sono piaciuti per niente ragazzi spinazzola ormai sono due anni che è un ex giocatore e stanno lo devi vendere perché sta in scadenza 2024 e non credo che ti venga rinnovato il contratto a destra abbiamo preso il solito terzino che non serve a nulla sulla stessa piano dei selic e casrop ragazzi questa realtà dei fatti meglio sicuramente zaleschi nel secondo tempo ma anche casrop che sono stati molto più dinamici molto più hanno preso più iniziativa hanno messo più palle dentro io ragazzi prossimo a verona zaleschi casrop tutta la vita cioè se vuoi cambiare l'inerzia sulle fasce e diciamo che queste sono state alla fine i problemi di ieri della roma difesa modesta difesa che ha avuto problemi e fasce che non hanno spinto per il resto ragazzi ho visto una squadra che comunque con sto nuovo modulo 3 5 2 il centrocampo c'è cristante se mette dietro a fare gista c'ha molta più copertura con due mezzali come bove a war il centrocampo ha sofferto meno tant'è vero che ripeto la salernità una parte guidutile che andrea non ha fatto niente cioè perché il centrocampo filtra meglio così da più protezione anche la difesa e fa ripartire pure meglio l'attacco per cui un centrocampo dinamico un centrocampo che ha corso tanto una war che secondo me può fare ancora meglio ma se vede che un giocatore di caratura superiore il cristante che in quella posizione con sta copertura soffre meno e un attacco che c'ha più possibilità di affondare più possibilità di dialogare con i due attaccanti lì davanti invece di uno soltanto messo lì a lotta contro tutti e una squadra che comunque ha avuto il 70 per cento di possesso palla per cui l'attacco decisamente bene con belotti che sapevo che avrebbe fatto una stagione totalmente diversa da quella dell'anno scorso e un esciaraglio che si è da sempre tantissimo da fare lì davanti sacrificandosi anche in fase difensiva in pressing e tutto quanto e poi la differenza chiaramente poi a una certa l'hanno fatti i gambi perché ragazzi ieri faceva 40 gradi a Roma prima del campionato gambe ancora imballate dalla preparazione sono stati fatti i gambi forse si potevano fare un po' prima ma poi i gambi hanno dato una scossa decisiva e finalmente ci abbiamo una panchina che può fare differenza perché tu quando entri con Renato Sanchez e Paredes che sono giocatori di qualità sicuramente superiore a Bove e Cristante comunque la differenza si vede anche se non avevano grande attività hanno fatto pochi allenamenti non erano in grandissima forma l'aveva detto anche Mourinho in conferenza e però hanno dato una bella scossa alla squadra anche sulle fasce Zaleschi e Casano hanno dato una bella scossa alla squadra Paredes ha fatto l'assist del 2 a 2 Renato Sanchez pure si è mosso bene ha cercato due tre accelerazioni insomma la squadra poi con i gambi ci ha avuto quella determinazione e quella forza per portare il pareggio e sfiorava anche la vittoria che secondo me se lo meritava tutta la vittoria ieri a Roma si può ripartire anche da qui c'è un gioco migliore un modulo migliore una panchina migliore dei giocatori di qualità superiore tenendo presente che ieri giocavamo anche senza di bala ecco che per noi è un giocatore stra fondamentale e io ripeto l'ho detto anche ieri con un centrocampo così con cristante vertice basso Aguare e Renato Sanchez o Paredes vertice basso che se danno il cambio un centrocampo così ben assortito e con di bala e belotti o di bala e il nuovo centravanti che toccherà vedere se poi arriva perché qui ancora non si sa niente e la Roma può far bene lì davanti al centrocampo e ripeto Pellegrini c'ha spazio dentro sta squadra con sta formazione qui cioè Paredes Aguar Renato Sanchez di bala e belotti ragà per me no poi lo sappiamo bene che insomma che alla fine giocherà sempre però l'unica cosa che preoccupa è sta difesa ragazzi la difesa preoccupa le fasce anche preoccupano perché indica non è pronto l'ha detto anche Mourinho a conferenza qui l'unico difensore che mi pare in palla è Llorente e speriamo che sia soltanto un episodio questo che la squadra che la difesa migliori che sia più ermetica che sia più concentrata che eviti dei fasce minchiate perché questi sono già due punti persi e merote del chiccherone questo è ragazzi le pagelle le faccio oggi pomeriggio intanto volevo fare questa disamina con voi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci sentiamo oggi buona giornata e sempre forza Roma grazie a tutti